Tragedia nella serata di ieri a Buonabitacolo. Un uomo, Eliegarone, di 81 anni, ha accusato un malore mentre passeggiava con i suoi cani in via Santa Maria la Chiaia. Purtroppo il malore è stato letale per l'81enne. Alcuni passanti hanno notato i cani che vegliavano il corpo a terra, hanno cercato di prestare i primi soccorsi, hanno chiamato il 118 e i carabinieri. Quindi purtroppo per l'81enne non c'è stato nulla da fare, anche se l'intervento dei sanitari è stato repentino, ma il cuore dell'anziano purtroppo aveva già smesso di battere. Anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e quelli della stazione di Buonabitacolo erano sul posto, ma si è accertato che si è trattato di un malore, quindi non è stato disposto all'autopsia e la salma è stata subito liberata. L'uomo per anni è stato residente in Germania, era tornato a Buonabitacolo per trascorrere l'anzianità, il pensionamento, era conosciuto e stimato dalla comunità. Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Guercio per questa tragedia.